La Corte d'Appello di Messina, presidente sicuro all'Atre Brigandie Gregorio, ha assolto perché il fatto non sussiste Aristide Calamunci Chianisi, 35 anni, autista di autobus di Castellumberto. Era stato condannato per violenza sessuale su una minorenne di 13 anni dal Tribunale di Patti a 5 anni di reclusione. I fatti oggetto del processo si sarebbero svolti il 7 novembre 2012 a Sant'Agata Militello. Fu processato a Patti e nel corso del rito abbreviato l'11 dicembre 2013 il GIP del Tribunale di Patti Maria Giuseppe Ascolaro condannò l'uomo a 5 anni di reclusione, cioè quanto aveva richiesto il PM Rosa Raffa al termine della sua requisitoria. In più anche a risarcimento danni alle parti civili costituite con gli avvocati Giuseppe Mancusio e Alessandro Nespola. In appello la sentenza di condanna è stata completamente riformata e Calamunci è stato assolto perché il fatto non sussiste. I difensori dell'imputato, gli avvocati Alessandro Pruiti e Nino Favazzo, hanno evidenziato nel corso delle discussioni finali del processo d'appello che all'epoca dei fatti, così come denunciato dalla ragazzina, i due non si conoscevano. Da qui la soluzione perché il fatto non sussiste.